Cari amici buonasera, stasera parliamo anche di quello che succede nella pubblica amministrazione. Allora vedete, stato emergenziale cosa significa? Significa che si affida tutto a un commissario, alla protezione civile, cioè a degli organi che non sono quelli soliti, che quindi possono effettuare qualsiasi acquisto senza appalti. Sapete che in Italia per fare un appalto ci vogliono mesi, in questo caso in sette giorni, cinque giorni, dieci giorni si riescono ad acquistare un sacco di cose. Lo si fa attraverso lo stato emergenziale che nomina commissari, per esempio Colau, per esempio il commissario della protezione civile e questo lo possono fare anche le regioni. Quindi le regioni, avete visto, vi ricordate il caso delle mascherine del Lazio, 50 milioni di euro buttati al vento, ne sono stati pagati 11, a una ditta che vendeva lampadine, 11 milioni regalati al vento, buttati senza la gara di appalto che avrebbe scoperto che questa ditta era una ditta finta, inventata, ma direttamente. Ecco di 11 milioni di euro, portaci le mascherine, mascherine, ma è arrivata. Ecco perché lo stato emergenziale è un pericolo, grande pericolo, perché consente a parecchienti di fare quello che si vuole senza la trasparenza prevista dalla legge. E cosa succede senza la trasparenza? Eccolo qui, perché siamo in Italia, purtroppo siamo abituati. Ed ecco qui che il più rappresentativo istituto scientifico italiano, quello di Bavia, ecco che cosa è successo. Nel fascicolo aperto della procura di Bavia, anche dai magistrati milanesi, sono stati indagati l'amministratore delegato di questa ditta, Diasorin, i vertici del San Matteo, il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, il responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare. Diasorin e S.P.A. sarebbero stati trasferiti tutti i risultati attenenti dell'attività di ricerca e sperimentazione e tutti i tamponi. Vedete? Capite che cosa? Dietro, accanto, dietro, sopra, questa gravissima sciagura che stiamo vivendo. Qualcuno ci guadagna, è ovvio, ma qualcuno ci guadagna con disonestà. E questo non è possibile. Mentre qualcuno ci guadagna con disonestà, qualche italiano si sta suicidando perché non ha da mangiare. Ricordiamoci. Ricordiamoci. Allora, allora, vedete, questa dei tamponi è una cosa che dobbiamo assolutamente non mollare. Perché? Non dobbiamo mollarla perché dietro questi tamponi c'è tanto. C'è da una parte la possibilità di guadagni, dall'altra parte la possibilità di truffe, dall'altra parte la possibilità di errori barra truffe anche sanitari. Che cosa è successo qualche mese fa? Lo riprendiamo. Questo è successo ad aprire, ma lo riprendiamo perché è successa una cosa gravissima di cui si è parlato un attimo. Ecco, lo riprendiamo e ne discutiamo un attimo. Guardate. Test per coronavirus, i tamponi contaminati dal coronavirus stesso. La società lussemburghese Eurofins, con una consegna di componenti chiavi dei test, dei tamponi, era stata contaminata con coronavirus. se sarebbe stata ritirata. La ditta ha ammesso che c'era un problema e ha insistito sul fatto che altri fornitori privati avevano lo stesso problema. Ecco, lo abbiamo sentito, lo abbiamo saputo. Ci sono stati milioni di questi campioni che sono stati ritirati, che non si sa che fine hanno fatto. Cioè, il tampone, guardate, non solo è una cosa seria, è una cosa difficile da effettuare, soprattutto è difficilissimo da analizzare. Nella, vedete, nell'indagine che vi ho fatto vedere prima, lo rivediamo insieme, che questo è un dato importantissimo. Guardate, chi sono gli indagati? è anche il responsabile del laboratorio di virologia molecolare. Ricordatevi questo termine, virologia molecolare. Cioè, un laboratorio biologico, un normale laboratorio biologico di analisi, un biologo, un normale, non possono fare queste indagini. Lo deve fare un laboratorio molecolare, con un apparecchio specifico. Metà dei presidi italiani, metà dei presidi che stanno facendo i test ai tamponi, non hanno il macchinario, non hanno il virologo molecolare, non hanno un reparto, non hanno quello che serve la legge, per cui ci fanno un tampone, e adesso parliamo dei tamponi, vanno in una cameretta, che è un laboratorio biologico normale, non hanno l'apparecchiatura, dove dire, ecco qui, positivo, vai, chiuso, dentro, 60 giorni, due periodi di parenti. Ma questa è una follia. Ma rendetevi conto che è una follia, ma non è una semplice follia, è una follia antidemocratica, anticostituzionale, che non è ammissibile in un paese democratico. Non è ammissibile. Avete letto, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri sera con una giornalista siciliana, vi ricordate che l'Istat doveva fare 150.000 tamponi agli italiani per fare la mappa del genoma, ma poi, vedete, stiamo facendo anche altro, cosa c'entra la mappa del genoma con il Covid. Avete visto che ieri il professor Zangrillo, in una trasmissione, è sbottato, ha detto anche una parolaccia, ha detto che mi sono rotto qualche cosa perché non se ne può più, ormai non esiste più. Il virus in Italia è inutile che continuiamo a seminare il terrore, l'ha detto un professore, un docente universitario, uno studioso, non lo diciamo noi. Allora, i tamponi, diceva questa giornalista, quando dovevano fare i tamponi Istat per fare 150.000, hanno acquistato, poi si è scoperto che non erano acquistati, ma erano regalati addirittura, una società che addirittura ha regalato 150.000 tamponi al governo, fantastici, hanno scoperto che erano in scadenza, brevissima, breve. Allora, io dico, qualcuno di voi che è stato assoggettato al tampone, qualcuno, io vi prego, scrivetemelo, uno solo, uno a cui abbiano fatto vedere prima il tampone, la provetta, abbiano fatto vedere la scadenza, abbiano fatto vedere la marca, abbiano fatto vedere il lotto, il codice a barre, sono tutte cose, nostri diritti, diritti, uno, uno solo a cui abbiano permesso. No, quindi non sappiamo se il test era scaduto, non sappiamo chi lo ha analizzato, se era un laboratorio molecolare. Ecco, dietro tutto questo, secondo voi, è una domanda che faccio, la faccio anche, guardate, senza toga, secondo voi, ma si cela qualche cosa o è tutto normale? Ma si cela qualche cosa o è tutto normale? Che non si sappia neanche a quale tampone siamo assoggettati, neanche a quale, non sappiamo neanche quale laboratorio, con quale metodo, se è un laboratorio molecolare, se il test non è scaduto. Ecco, vedete? Queste domande ci devono far pensare, io dicevo stamattina in una trasmissione, noi non è che abbiamo una cultura eccezionale, noi siamo persone normali, siamo popolo, ma tentiamo di ragionare, tentiamo di darci delle risposte, ma ci potremo dare, ci potremo fare delle domande e darci una risposta logica a qualcuno, io vi prego qualcuno, ma ci date una risposta logica. Io ieri sera ho fatto una trasmissione con persone meravigliose, fantastiche, scienziati, studiosi, mondiali, veramente una cosa internazionale, e giustamente un virologo di fama internazionale ha posto un problema, guardate, ve lo rimando così come ce l'ha posto, scusateci, scusate, sapete quanto è difficile fare un vaccino, ci vogliono mesi, è molto complesso, in alcuni casi anni, in alcuni casi non si raggiungerà mai, perché? Perché il virus muda, scusate, ma secondo voi, se fosse stato così facile fare un vaccino, ma vi pare che non ci sia stato un vaccino dell'AIDS, sull'AIDS? Niente, non c'è mai stato, in 35 anni non sono riusciti a scoprire il vaccino dell'AIDS, adesso devo scoprire in tre mesi quello del Covid, c'è qualcosa di strano, ma la cosa ancora più strana è, è, ci vogliono almeno, mesi se non anni, per riuscire a trovare l'incastro del vaccino, allora, cosa succede? Guardate, ci ha fatto un esempio questo, questo scienziato che è fantastico, che è fantastico, allora, in genere, il virus dell'influenza all'Italia arriva a novembre, voi sapete, che ogni anno è un'influenza diversa, è un virus diverso, non è che è sempre, lo sapete, ogni anno c'è un'influenza diversa, arriva, diciamo, il primo novembre, arriva il primo novembre, quindi da quel momento si deve prelevare il virus, bisogna studiarlo, fare gli esperimenti, testarlo, fare tutto quanto, dopodiché produrre, mettere in commercio il vaccino, passeranno mesi se non anni, diciamo anche mesi, il primo novembre, arriva l'influenza in Italia, il 2 novembre, nelle farmacie ci sono i vaccini, scusatemi, questo non lo dico io, l'ho detto ieri sera uno scienziato, nella trasmissione che abbiamo fatto, ma ha fatto un discorso, ma secondo voi, ma è normale, ma è pensabile, solo questo, solo questo, è pensabile? Datevi una risposta, datevi da soli una risposta. Allora, allora, per andare avanti, il prossimo grande problema che dobbiamo vivere, amici miei, è ampio, non è, è quello scolastico, quello scolastico non significa solo i bambini, solo i professori, solo l'insegnante, significa le famiglie, significa la società, se i genitori non possono portare i figli a scuola, ma come fanno ad andare a lavorare? Ma come fanno? il problema è enorme, immenso, ci stiamo lavorando, sapete, con i ricorsi, guardate, adesso stanno tentando di inventare, l'inverosimile, l'inverosimile, voi vedrete ad agosto cosa inventeranno, ma noi staremo qui, staremo qui, saremo qui, non molleremo un attimo, con tutti i ricorsi possibili e immaginabili, guardate, guardate, già, già mi faccio vedere come stanno tentando, guardate, ecco qui, guardate, scuole e stadi, non ce ne frega niente degli stadi, ci interessano leggermente le più le scuole, scuole e stadi, ingressi scaglionati, quindi vedrete che adesso inizieranno a inventare, bambini che entrano alle 10 di mattina, alcuni 7 e mezzo di mattina, altri che escono il pomeriggio, che il sabato no, il sabato sì, le famiglie saranno massacrate, le famiglie saranno massacrate, perché non potranno neanche decidere quando lavorare, perché non sapranno quando si porteranno i bambini a scuola, è questo il futuro, il futuro purtroppo prossimo, ecco, andiamo a completare questa, questa piccola rassegna stampa, allora, allora, ne parleremo a lungo, adesso solo, l'Europa, i fondi, no, si è parlato veramente tanto, che non vogliamo ritornare, per fortuna, non ci hanno presi a calci, nel sedere, sono un po' di calci, di gengive, insomma, si è trovato un accordo, guardate, questo accordo, sarà durissimo, cioè, non è che di domani ci danno i soldi, ecco, primo, i soldi arriveranno, si arriveranno nel 2021, poi vi faccio vedere quali sono le regole, ci sono una valanga di regole, una valanga di regole, ecco qui, guardiamole, per esempio, per esempio, fisco, queste sono le regole che dà l'Europa, ecco qui, dove è, Bruxelles, ecco qui, revisione dei valori catastali non aggiornati, quindi, aumento delle tasse sulla casa, evasione fiscale, fatturazione elettronica, no al contante, eccetera, eccetera, ecco le regole, qui, le pensioni, guardate, le pensioni, abbassamento delle pensioni, scarsa fiducia della magistratura da parte dei cittadini, cioè, l'Italia dovrà fare una serie di norme, tutte peggiorative del nostro Stato, perché dovranno aumentare le tasse, dovranno abbassare le pensioni, dovranno togliere le facilità sui fiscali, quindi, sarà un bagno di sangue, lo diciamo per adesso, speriamo di no, ovviamente, perché amiamo talmente il popolo italiano, talmente l'Italia, che speriamo che non sia così, ma purtroppo, purtroppo, succederà questo. Finiamo con, sono piccole, piccole stelline che vi stiamo dando questa sera, finiamo con lo scandalo degli scandali, perché stiamo vedendo quello che sta succedendo sulla magistratura, non ci ritorniamo oggi, ma vi ho già detto che i magistrati, purtroppo, i magistrati, hanno consentito uscire dal proprio lavoro, andare a fare politica, ritornare, rimettersi dentro, rifare politica, tutto quanto, conseguenzialmente, prendendo stipendio da una parte, da un'altra, consulenze, consiglieri dei ministri, e gli ha consentito tutto. Ma secondo voi è possibile che un magistrato che debba giudicare la politica, la corruzione, il giorno dopo faccia il parlamentare in mezzo a loro e il giorno dopo ancora ritorni a fare il magistrato? Vi sembra una cosa normale? Vi sembra che uno Stato democratico lo consenta? Guardate, ecco qui, ci fanno i giornalisti qualche piccolo esempio. Il doppio stipendio dei magistrati tra incarichi d'oro e poltrone extra. Nel 2019 il CSM ha autorizzato 883, guardate, attività straordinaria dei magistrati. Un PM antimafia ha collezionato 44 mandati nell'ultimo triennio. Fuori dai tribunali 215 toghe, tutti con incarichi esterni, dal governatore Emiliano al deputato Ferri. Ecco, questa è l'attuale possibilità normativa che riguarda la magistratura in Italia. Noi ci vediamo domani sera, vi abbraccio tutti, mi raccomando, anzi, vi do di una cosa importantissima, a parte di condividere al massimo i nostri video, stanno continuando le truffe in continuazione con la mia pagina, con il mio video, con... è ovvio, ma scusate, ma non siate sciocchi, è ovvio che se qualche truffatore chiede soldi, carte di... è una truffa, è ovvio che lo stanno facendo sulla nostra notorietà, quindi denunciateli a Facebook, immediatamente comunicati, io li ho querelati, domani li ando a querelare un'altra volta, ma ovviamente, evidentemente, sono protetti perché più li quereliamo e più sono tranquillissimi e continuano a fare le truffe, mandateli a quel paese e segnalateli, segnalateli a Facebook, vi abbraccio, ci vediamo domani sera, diffondiamo al massimo questi nostri video, ciao!